Salve a tutti benvenuti in questo nuovo video che volevo farlo un po' più la naca c'è anche princess non si vede niente così prima che non caschiacciola per tarata che è nuovo sto girando questo video praticamente con il tavolino che uso per mangiare il telefono allora non ho la chiara perché al punto dopo non sono riuscita a prenderla perché è incastrata ma farò il video un po' con i fiori un po' senza anche se so che i fiori sono più di smr però visto che appunto come potete notare vedrete sulla cremata di grifondoro ho tolto le decorazioni natalizie perché ormai siamo arrivati a non so che giorno oggi sono persa un attimo l'otto oggi è l'otto noto gennaio quindi appena da poco ho finito la rifania sono iniziati i saldi ieri e quindi ieri ho fatto shopping allora vedete questo video centrato su cosa ho acquistato durante i saldi ha fatto ieri sono io e il mio ragazzo siamo andati appunto a fare un po di giri non so quando uscirà il mio video non so quando uscirà con il mio ragazzo però avremo il canale in comune dove faremo le cose ve lo lascio qua sotto in descrizione andatevi di iscrivere se siete ancora iscritti e ovviamente iscrivetevi anche a me se non siete ancora iscritti ovviamente procediamo ancora al video allora tutti i video vi dico saranno un po perché ho perso di video a causa del telefonino nuovo quindi alcuni video sono nel vecchio nel nuovo quindi ci sono un po di problemini se non sarà in ordine cronologico quindi magari vedrete prima questo video poi quello dei regali natale poi magari quello della befana e quindi vi vedo scusa in anticipo cosa ho comprato allora ho fatto delle fassionanti prima sul mio canale SSMR sul mio profilo instagram che dove mi chiamo sempre redprincess però è sempre sotto sotto comunque lo trovato ovunque mi chiamo redprincess93 se non sbaglio redprincess comunque mi trovate dove ho fatto vedere un piccolo spoiler ma ovviamente non si vede tantissimo tantissime cose insomma allora io ero permesso di non spendere tanto no non ho speso tantissimo diciamo che farò un video a parte che abbiamo mangiato anche fuori magari quel video lo faremo insieme ragazzo non lo so vedremo partiamo con quello che ho comprato allora iniziamo a tutti i pacchi sul letto allora inizierei da questa busta che tutti ha incugliosito perché è di Gucci non è di Gucci non c'entra niente allora vi già vi rovin i sogni non è di Gucci ma bensì la calza che io e i ragazzi siamo fatti quindi in questo video ci saranno sia i saldi visto che ho già fatto il video di cosa ho ricevuto alla Befana ma poi i ragazzi sono fatti le calze dopo vi faccio vedere cosa mi ha dato il ragazzo come calza e l'altra cosa non facciamo vedere allora qua è la calcettina quel bigliettino cioè anche il bigliettino tanto poi dovevo distruggerla quindi il bigliettino lo metto qua dentro io tengo tutti i bigliettini io non ho fatto il bigliettino però lo metto in questo video perché poi ne ho troppi di video da fare e quindi se mi metto a separare i video non posso fare due video della Befana allora la calza è quella degli M&M's vorrei far vedere tutta la roba che c'è allora abbiamo io ho una passione che ho eleditato quando facevo l'esame di stato ho ben 19 gole ad or ecco oggi lo sto sul tavolo così non perdo i dolci poi abbiamo un ovetto kinder non vado fatto per la cioccolata però mi piacciono i subbiettini abbiamo i kinder bueno questo mi piaceva molto il mio ragazzo mi vuole di far diventare obesa kinder bueno poi abbiamo un kinder feste al latte un ferro scello l'altro c'era mamma non ho mangiato una da gole a terra che si è aperta i raffaello i raffaello sono i miei cioccolatini preferiti ragazzi chi non li ama un altro kinder feste al latte che si è perso e alcuni sono persi dal latte questi sono i miei piccoli che me li mangerò e io me li mangiovo sempre quando c'era al cinema adesso il cinema è chiuso sono triste comunque tutte le volte no tutto quello che c'era nella calcina mi metterò qua sono 80 volte li vedete ah più o meno qui c'è tutto quello che c'era nella calcina grazie amore per farvi diventare obesa allora andiamo un po' avanti perché c'è tante cose da far vedere vorrò fare un video haul ma non potrò farlo perché sono in pigiama e quindi mi verrà un po' difficoltà dovrò fare tutto sto vi farò vedere poi le immagini su Instagram delle cose che ho acquistato ma non sono tantissime partiamo prima con le cose non da vestire poi da vestire sono andata da Ives Rocher perché non la conoscesse a torino pieno di questi negozi ce n'è uno in centro una porta nuova uno in centro commerciale delle gru non eramo le gru allora ho acquistato questa maschera per i capelli che per chi ha visto il video tempo fa io la uso una maschera notte io ho tendenzialmente i miei capelli sono secchi sono dappertutto sono secchi perché sono rossi quindi questa maschera è notturna si applica sui capelli e capelli molto secchi o rovinati infatti quindi è una maschera che va messa di notte e va fatta agire io di solito uso anche la cuffia però scusate quello che ho fissuto è un casino quindi era top poi cambia la federa no comunque è ottima potete usare anche durante il giorno non succede nulla nel senso io volte me la metto tutto il giorno magari esco e i capelli sembrano paglia secca l'ho pagata scontata al 50% 5 euro e in omaggio mi hanno dato la mini size che le tengo per l'estate per i capelli colorati perché non mi sono i capelli c'erano 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 i shampoo in generale ti guardavano un attimo vedi poi non guardarti vabbè sento caremba li uso per tipo l'estate che magari vado in giro una scioccolata nei capelli me la tolto in piscina al mare o qualche parte se riesco veramente se c'è una doccia poi sono comodi comunque se quando mai riapriranno le palestre e i cosi sono comodi sono picciolini passiamo a questo qua che volevo dare tantissimo sabon sabon a parte che mi piace tantissimo come fanno le buste sono sempre carini se riesco a scegliere il nodo mortale che ho fatto ieri perchè ho fatto vedere mia mamma quando mi sono comprata e ho potuto rimettere tutto nelle buste e lasciarle per terra per fare questo video allora visto che ho regalato tutto mia madre ho regalato mia sorella anche sabon mi regalo qualcosa anche io giusto sono comprata lo scrub natalizio che adesso non vorrei che si versasse comunque questo qua non so se lo vedete ve lo avvicino è una scrub che si chiama body scrub sugar plume e l'odore è buonissimo non lo apro perchè dove sono sceglierato è quindi però è buonissimo perchè questi scrub di sabon ve li consiglio visto questa quella è la versione piccola natalista erano discontate di 20% poi c'è uno sconto fino al 50 io ho visto prima quelli da 35 da 50 è tutto finito ho preso questo perchè lo volevo già a natale quando l'ho regalato però ho visto che poi c'erano i saldi l'ho pagato anche per ho pagato sui 5 però anche questo se lo sbaglio non c'è uno scontrino molto bene questo è un cazzo da promesso perchè lo trovate da queen a me non c'erano delle gru a torino lo trovate adesso il queen sta per aprire anche a lingotto che sarebbe quello che c'è vicino alla metro il primo grattacielo da notto a torino comunque ho preso perchè l'odore è molto natalizio però mi piaceva c'era tutta la linea natalizia scontata e anche altre linee però mi piaceva perchè sta un po' di natale non lo so mi piace molto poi questi scrub non sono molto cioè invasivi infatti io ho alcuni in bagno ma sono monoporzioni cioè monouso sono monoporzioni che sono un po' più aggressivi questi qua invece a secco comunque fanno lo scrub ma poi rilasciano degli oli sono fantastici e li ho pagato appunto sui 5 euro comunque non più di tanto e poi mi ho regalato un campioncino di crema la tipa era da corto i campioncini la crema eh body lotion delicata e jasmine che è quella che allora sia mia mamma che mia sorella eh porca mia intanto io penso che la porterò in giro poi cato per le mani perchè volevo prendermi anche la crema per le mani ma non ho potuto perchè avevo pochi soldi perchè con il suo storia del la mucchina 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 fa vietta mucchina mucchina le mie mani stanno cadendo infatti io mi sono rovinata il pollice allora ho detto mi porto dietro la crema c'ho anche la crema per le mani che l'ho preso anche lì dai vesto lo scepero ne ho anche una non ho tre crema una che la tengo in borsa un'altra che non so che fine abbia fatto l'altra l'ho presa l'antico attack è molto forte è proprio grassa se no che vorrei prendermene un'altra che sia media perchè quando mi metto i guanti è un po' scomodo quella si avete capito no? mettiamo un ciocchetto di sabon passiamo adesso una cosa che mi hanno regato che non ho comprato allora è arrivata questa lettera ieri mi avete messo le cose di eb che mi ha dato il soggiorno dei saldi eh altro consumo mi manda una bellissima lettera la tua guida di oltre consumo puntuale e gratuita grazie oltre altro consumo che non so perché mi sia arrivato vabbè grazie allora gentile amico amica ti inviamo la guida me l'hanno regata l'agenda penso che non so leggere di tutto comprami l'agenda me l'hanno regata tra l'erburario non sono fantastiche ma sono gratis questa agenda che poi non è bruttina perchè guarda com'è bella dentro mi va bene non è una di quelle capite quelle agendone enormi però ogni tanto gli dice 5 cose da sapere tipo 5 cose da sapere su se acquisti un computer portatile vabbè se sapere cos'è comunque utile 5 cose da sapere sui mutui però per il resto comunque non è bombosa meno armi anche se io preferisco quelle bombate no mi provo la diciamo l'agenda che mi è arrivata mio ragazzo l'anno scorso dura fino a febbraio poi la devo cambiare perchè dura più di un anno e poi userò questa qua dalla fine è carina ci sta anche se comunque non so penso che magari anche lo uso anche perchè è comodo da portare in giro guardate è un foglio di carta eppure arriva a fine dicembre cioè alla fine ci sta quella di del volare sono sincero mi piace è troppo piccolo comunque ragazzi sono andata due agende e tre calendari senza contare quello di mia mamma che è di là che vabbè non è proprio mio quindi ecco facciamo tre calendari due agende per ora grazie altro consumo almeno ce l'ho grattissimo passiamo i pezzi forti number one ODS non la posso indossare perchè ho il pigiama ma la faccio vedere comunque poi vi farò delle foto volevo un pile che non fosse unicolor allora si vedete che sarà fucsia ma non è proprio fucsia e ho questo pile qua che magari riesco anche a indossare non so se riesco nel letto però ci provo perchè ho questa maglia comunque è così ve lo faccio vedere ma ho fatto così non so cosa vedrete dalla telecamera se riesco non so non ve lo farò vedere quale foto comunque ho fatto così alla zip è la cosa più bella spediamo se vi faccio vedere tanto il pile me la posso indossare allora immaginate che sia chiuso perchè io qua nel letto non riesco a chiudermelo Sara le ho preso con la zip i miei video hole sono indimenticabili comunque ho fatto così è un l'ho preso più largo perchè mi piacciono comodi infatti è un po' largo un po' largo però è così la cosa più bella che i miei altri miei pile non ce l'hanno è questa ok this is cappuccio sono lasciate vedere le rose che ho in testa però ha il cappuccio poi il colore mi piace tantissimo non vedete bello rimane un po' più lunga sotto non vedete un cazzo però rimane abbastanza lunga ma io comunque porto sempre i leggings ed è bellissima c'erano bellissimi colori c'erano anche blu ma non aveva il cappuccio quindi ha vinto questa perchè non avevo tanto budget ha vinto questa che poi dovrò lavarla però me l'avevo provata a far vedere com'era e questa qua l'ho pagata da 10 euro costava 16,95 comunque poi c'è scritto pile sostenibile però mi piaceva molto il colore erano anche da 9 euro 10 euro erano comunque lì i prezzi ho pagato lo scrub 5,60 euro costava 60 euro buona sapersi buona sapersi l'ho trovato adesso mettiamo il da coin poi questo che cos'è ah altra cosa se non fosse per lo sconderlo mi sarei dimenticata mi sono presa una cosa molto particolare allora ho fatto anche la foto su instagram non so se la vedrete mi sono presa questo questo ciondolino qua vedete questo aeroplanino qua questo io ho praticamente ho questo perciato componibile che ho detto qua anche l'altro perciato se non lo vedete questo perciato componibile con tutti i miei l'ultimo mio acquisto è questo qua questo aeroplanino ho preso i gioielli poi mi sono comprata i moschettoni perchè ho dovuto attaccare questo qua che non si era ancora attaccato col moschettone poi ho preso l'altro moschettone per attaccarmi l'eroplanino che mi sono messo a attaccarciarli magari è meglio una settimana che lo cercavo è bellissimo mi rappresenta un casino lo adoro mi hanno uscito tutto e ho pagato l'eroplanino se lo sveglio costa sugli 8 euro allora vediamo si l'eroplanino il ciondolo aeroplanino costa 8 euro e poi poi i primoschettoni 2 euro l'uno proprio costo il primo schettone che altro per tutto in argento quindi se lo lavo qua non se lo viene però quando vado al mare quasi me lo tolgo questo lo metto da qualche parte e niente poi a parte il moschettone che dovevo farmi riparare il suo bracciale perché dovevo farmi togliere un ciondolo che si è rovinato perché si è piegato in due quindi era rotto ed a casa avevo vorrei di rompermi il bracciale quindi me l'hanno cambiato loro e poi ho messo i due moschettoni perché l'altro ciondolo che avevo lo tenevo proprio nella chiusura quindi praticamente qua nel ciancetto e se lo sganciavo non lo potevo perdere in un aeroplane non era tanto quello volevo che schiavolo significa non lo ha ultima cosa stupendissima vi faccio vedere la borsa che anche la borsa è bellissima poi la laverò anche questa in tessuto è pagata 35 centesimi perché le tue booster non finita l'altro consumo la mettiamo qua dentro ragazzi questa vi farò vedere poi le foto è bellissima l'ho preso del grande perché la volevo mettere sui leggings quindi io tendo al al grande per chi conoscerà la marvel ragazzi questa costa 36 euro e mi ha pagata io e mi raccosa 36 euro non sto scherzando 36 euro c'è tutto qua 36 euro l'abbiamo pagata 70 centesimi di sconto 10 euro 80 guardate come è bella e una cosa straordinaria che vi farò vedere se riesco a farvelo vedere vi potrei anche mettere ma la fate guardo allora nella parte del fianco ha una placca che adesso io andrò a schiacciare già la 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 non so se la mette ma si illumina ragazzi stupendo si illumina le pietre vedete del guanto di Thanos si illuminano è fantastico e quindi c'è questa placchetta all'interno che mi ha detto mi ragazzo noi non l'avremo ancora notato ha questa placchetta che voi schiacciate qua che poi sul fianco qua non la mettete più facile e ha questo tascone laterale qua questo qua che potete vedere comunque la cosa dentro però se poi scavate dentro trovate la placchetta è bellissima perché come potete vedere è enorme è della Disney ovviamente certificata è bellissima voglio far vedere la foto che la indosso con i leggings che oggi si riesco ovviamente per lavarla è l'impresa mondiale però è bellissima infatti oggi penso che le darò solo una pulitina tanto comunque non è che le indossano Disney non si può indossare poi erano nuove quindi praticamente non le metto perché c'è la batteria non penso che si fosse la lavatrice io ho detto di lavarla a secco c'è scritto 30 gradi ma secondo me mettono le lampadine perché noi pensavamo fossero dei brillantini o degli strass perché sarebbero le gemme dell'infinito come ci sono lampadine vi ringrazio quando arrivo a casa mi dice amore ma hai già visto hai già provato la maglia della Disney no perché ha le luci dentro cioè come le luci e devi tirare con la placchetta a togliere la linguetta dentro le pile sono quelle dei classiche cinesi con rotonde per gli orologi ho speso 11,15 euro perché ho speso 10,80 per la maglia 35 centesimi per la borsa tra l'altro la borsa mi piace tantissimo perché non è quella mai quella di carta e mi piace perché così la laverò ovviamente e la userò e c'è altra cosa dentro però la speso questa cosa qua penso che sia terminato tutto sì 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 ho detto tutto allora sì devo prendere anche la power bank però non l'ho trovata quindi l'acquisterò su Amazon penso niente termino con i miei acquisti durante i saldi sono abbastanza contenta abbiamo anche pranzato da amo poche che poi vi farò vedere le foto magari farò un video a parte comunque le trovate tutte su Instagram sono sulle mie storie ma le metterò magari anche su un album comunque le trovate solo le faremo un video a parte comunque io vi saluto questo video è durata abbastanza e niente come poi immagine metterò shopping metterò qualcosa insomma io vi saluto che sono sono stank e dove devo sistemare tutta la roba adesso che bello ha dato tutto il tavolo pieno di cioccolata che sono da sistemare che non la manco tutta io sono sincera e la condivido a parte Kinder Bueno che me le nasconderò insieme alle M&M's e le Collador se io che erano quando vedo cazzo no vabbè le altre le metterò che no magari alcune le gole le metterò in camera alcune le metterò io vi saluto chi mi vuole cosa ho avuto acquistato con i saldi io se ho avuto più soldi sarei stata onessa per aver speso di più si però diciamo che mi sono tenuta un po' anche perché i soldi erano pochi però sono contenta comunque di quello che ho comprato tutta la maglia della Disney mi ricordo se si è rifatto il web da roba quindi andata a vedere poi il suo video perché gli ho fatto prendere di tutto niente un nuovo figlio di Charuto e vado a sisma alla stanza ciao